Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi bambini, benvenuti a questo incontro del Catechismo, incontro con la dottrina cristiana. Cominciamo subito con la preghiera del Tia d'Oro. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la Tua santa volontà e per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Oggi avete capito, bambini, che parliamo del mese di maggio e di Maria. Ma vogliamo iniziare dicendo subito una preghiera per il Santo Padre Benedetto, che prega sempre per noi e ci benedice. Preghiamo per Lui, per i nostri cari, per tutte le persone che soffrono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, parliamo dell'argomento di oggi, come vi ho anticipato. Parliamo della Madonna, la nostra Mamma Celeste. Parliamo anche di questo mese di maggio appena iniziato. Il mese di maggio sapete che è il mese dedicato al nostro amore per Maria. Al nostro amore per Maria. È il suo mese. Perché sarà il suo mese, il mese di maggio? Perché il mese di maggio è il mese dei fiori. È il mese in cui i fiori fioriscono, sbocciano con maggiore abbondanza. Qual è la regina di tutti i fiori? La risposta è semplice. La regina di tutti i fiori è la rosa. Guardate questa bella rosa. Ecco, questa rosa profumatissima, questa rosa bella, bella, guardate. È la regina di tutti i fiori. Di rose ce ne sono tantissime, di tanti tipi. Ma il fiore più bello che si trova nei giardini, ma non solo nei giardini. Come la rosa è la regina di tutti i fiori, così Maria è la regina di tutti i santi. È la più santa creatura che possa esistere. La più santa di tutte, perché è senza il peccato originale. È immacolata. Guardate che bella rosa bianca che ho trovato. Questa rosa ha un bianco purissimo. Ha un bianco purissimo. Che indica che la Maria è senza macchia di peccato. Non ha il peccato originale, ma non ha neppure gli altri peccati che si commettono nella vita. È tutta pura. È immacolata. Perciò il bianco, la rosa bianca, si addice a Maria. Tutte le rose si addicono a Maria. Specialmente la bianca e la rossa. La rossa. Guardate. Che bel rosso. Il rosso è il colore dell'amore. Guardate il cuore di Maria. È rosso. Indica il suo amore di mamma per i suoi bambini, che siamo noi. L'amore di una mamma. Maria è una mamma che ama i suoi figli. I suoi figli siamo noi. Perciò le regaliamo questa rosa rossa. Il mese di maggio è il mese delle rose. È il mese di Maria. La preghiera più bella che piace a Maria, qual è? Lo sapete. È una preghiera che si chiama Rosario. È una preghiera che si chiama Rosario. Guardate che cos'ho in questo scrigno. Questo è uno scrigno. Un bauletto di legno. Che ho trovato in un monastero. I monaci fabbricavano questi bauletti di legno. Guardate che chiusura che ha. Bella. E dentro trovo la corona del Santo Rosario. È bellissima. Guardate che bella corona bianca. E guardate se non assomiglia L'immagine che c'è L'immagine che trovate nella medaglia Se non assomiglia All'immagine Che c'è sullo sfondo È lo stesso soggetto Il cuore di Maria È tutta bianca. Guardate Ecco il Rosario Perché si chiama Rosario Questa preghiera Che noi recitiamo Aiutandoci con la corona Rosario Rosario cosa significa? Significa corona di rose Perché ogni Ave Maria Sono 50 Ave Maria Sono 50 pallini 50 grani Ecco Ogni grano Su ogni grano Si recita l'Ave Maria L'Ave Maria È una rosa Che noi offriamo Alla Madonna Ecco Le nostre rose No? Ogni Ave Maria È una rosa per lei Quindi l'Ave Maria Deve essere recitata Bene Non si dà un fiore Alla nostra mamma Così Ma lo si dà Con gentilezza Lo si dà Con amore Quindi ogni rosa Ogni Ave Maria Che recitiamo Dobbiamo recitarla Con amore E bene Meglio che possiamo Bene Sono 50 Ave Maria Suddivise In gruppi Di 10 Infatti Se noi guardiamo Nella corona Le rose Si sono intrappolate Ecco Ci sono 10 grani Molto uniti Tra loro Poi c'è uno spazio Con un grano isolato Altri 10 grani Uniti tra loro E così Sono 5 gruppi Di 10 grani Ciascuno Come si fa Come si fa a recitare Il rosario Innanzitutto Guardiamo Che preghiere Servono Per recitare Il rosario Ecco Le preghiere Che servono Serve Il padre Nostro Poi Ovvio Ovvio che serve L'ave Maria Ce ne sono 50 Di ave Marie E' una corona Di rose E' il rosario Poi serve Gloria al padre Poi serve Una preghiera speciale Che è questa Oh Gesù mio Questa preghiera Pensate Bambini E' stata Insegnata Dalla Madonna Stessa Ai tre Pastorelli Di Fatima Quando è apparsa Ha insegnato Questa preghiera E ha detto Ogni volta Che reciterete Il santo rosario Dovete recitare Anche questa preghiera Proviamo a recitarla Insieme Oh Gesù mio Perdona Le nostre colpe Preservaci Dal fuoco Dell'inferno Porta In cielo Tutte le anime Specialmente Le più bisognose Della tua misericordia Avete sentito Bambini Che In questa preghiera Preghiamo Perché Il Signore Gesù Ci preservi Dall'inferno E' brutta cosa Carissimi bambini Finire all'inferno Perché Chi va all'inferno Perde la sua anima Per tutta l'eternità E va In un fuoco Di dolore E di sofferenza Non ci capiti Questa sventura Pertanto Noi ogni volta Che recitiamo Rosario Diciamo sempre Preservaci Dal fuoco Dell'inferno E poi Preghiamo Anche per tutte Quelle anime Che hanno più Bisogno Della misericordia Di Dio Cioè Del suo perdono Ci sono anime Che vivono Nel peccato Anime Che commettono Tanti peccati Queste hanno più Bisogno Del perdono Di Gesù E così Preghiamo Perché il Signore Le perdoni E li converta Poi Un'altra preghiera È la Salve Regina Salve Regina Che si recita Alla fine Salve Regina Un'altra Bellissima Preghiera È questa Ecco Probabilmente Il Padre Nostro L'Ave Maria E Gloria Al Padre Li conoscete Già Lasciate stare Ma senz'altro Dovete imparare Per questa Settimana A memoria O Gesù Mio Questa preghiera E la Salve Regina Che è più lunga Perciò avete Da studiare Apparecchio Forse la Salve Regina La conoscete già E allora Concentratevi Su O Gesù Mio Vedete un po' voi Fermate L'immagine Del video Lo copiate Copiate Sul quaderno Le preghiere Che non sapete Ancora E quelle Cercate Di impararle Torniamo Al nostro Rosario Allora Come si fa Come si fa Quelle sono le preghiere Che servono Si parte Con il segno Di croce Il nome del Padre Del Figlio Dello Spirito Santo Amen O Dio Vieni a salvarmi E si risponde Signore Vieni presto In mio aiuto Poi si dice Gloria Poi si dice O Gesù Mio Perdona Le nostre colpe Poi si dice Il mistero Ecco Si annuncia Il mistero Vi faccio vedere Qui Ecco I misteri Principali Del rosario Ecco Prendiamo I misteri Gaudiosi Sono i misteri Della gioia Si dice Nel primo mistero Contempliamo L'annuncio Dell'angelo A Maria Santissima Ecco Poi si dice Il Padre Nostro E poi Tenendo la mano Di volta in volta Su un grano Diverso Si recitano Le dieci Ave Marie Del primo mistero Gaudioso Oppure del primo mistero Doloroso Oppure del primo mistero Glorioso Questi sono i principali Misteri Ce ne sono anche altri Ma mi pare che Dopo mettiamo Troppa carne Al fuoco Forse sapete già Recitare bene Il rosario Allora non importa Ma certamente Ci sono dei bambini Che ancora Non sanno Ecco Dopo le dieci Ave Marie Di nuovo Gloria Arriviamo a questo Grano Isolato E diciamo Gloria al Padre Poi O Gesù mio Perdona le nostre Colpe Poi annunciamo Il mistero Il secondo Può essere Il secondo mistero Doloroso È la flagellazione Di Gesù Se fate i misteri Gloriosi Invece L'ascensione Di Gesù Al cielo E via Così poi Il Padre Nostro E proseguite Con le dieci Ave Marie Mentre Recitate bene L'Ave Maria Cercate anche Di pensare Al mistero Che è stato Annunciato Perché si chiamano Misteri Cosa sono i misteri Sono episodi Fatti Della vita Di Gesù E di Maria Divisi In tre Parti I gaudiosi Sono i misteri Della gioia Cioè Episodi Che Nei quali Che hanno portato Gioia Nella vita Di Gesù E di Maria Misteri dolorosi Invece Sono le sofferenze Che hanno patito Gesù E Maria E invece I misteri Della gloria Sono i misteri Della gloria Del Signore Anche di Maria La risurrezione La risurrezione L'ascensione Eccetera Ecco carissimi Bambini Il rosario E la preghiera Che Maria E poi alla fine Terminate Con la salve Regina E' ovvio E' ovvio Gli adulti Si aggiungeranno Anche altre preghiere Ma io vi ho detto L'ossatura Cioè Il rosario Come andrebbe detto In maniera semplice Poi dopo Ci si possono aggiungere Le preghiere Che uno preferisce Il rosario Quindi Dicevo Bambini E' la preghiera Che a Maria Piace più di tutte Perché E' una preghiera Umile Maria E' umile Non è superba Non è orgogliosa E questa umiltà Ottiene da Dio Tantissime grazie Per noi uomini Il rosario Deriva anche Dal suo amore Guardate che bel cuore Che ha la Madonna Un cuore bellissimo Cioè Piena di amore Per tutti i suoi figli Questa fiamma Che vedete Non so se la vedete bene Questa fiamma E' la fiamma Del fuoco Del suo amore Però notate Che ha anche Una corona Di spine Intorno al cuore La sua preoccupazione Il suo dolore Per tanti figli Che sono lontani Da Gesù Che vanno Che vanno Purtroppo All'inferno Si stanno Dannando L'anima Sono le bestemmie Sono i peccati Dei suoi figli Tutte queste Tutte queste sono sofferenze E noi dobbiamo Pregare il rosario Perché in questo modo Consoliamo Il cuore Della nostra mamma Celeste E la aiutiamo Ad ottenere Le grazie Per i suoi figli Ecco Maria poi Ha questa catena Vedete Una catena D'oro Con Non si vede Ma c'è Nel ritratto Non si vede Ma C'è un globo C'è una specie Di gioiello A forma di globo Quello è il mondo Maria Prega Per tutto il mondo Presenta Il mondo L'umanità A Gesù Così E' apparsa A Suor Lucia Di Fatima La veggente Che è vissuta Fino a oltre Novant'anni Mentre gli altri due Giacinta E Francesco Sono morti Da bambini Molto piccoli Ecco Ma La Madonna Ha detto Pregate il santo rosario Fate sacrifici Mortificate Mortificatevi Qualche rinuncia Qualche sacrificio Non lamentatevi Delle cose Che non vanno bene Delle cose Che soffrite Dovete soffrire Offrite tutto Per amore Al Signore Perché il Signore Salvi le anime Dall'inferno Purtroppo Tanti vanno All'inferno Con questo rosario Cari bambini Difenderete Voi stessi Le vostre famiglie E Vedrete Che il Signore Vi guiderà Passo Dopopasso In tutta La vostra vita E vi salverà Da tanti Pericoli Che si possono Incontrare Diciamo Diciamo insieme L'angelo Di Dio Angelo Di Dio Che sei il mio custode Illumina Custodisci Regge E governa Che ti fui Affidato Dalla pietà Celeste Amen E per la prossima volta Cercate di Allora come vi ho detto Di copiare Le preghiere Che Ancora non conoscete Di impararle Quelle che servono Per il rosario E anche i misteri Potete copiarli Misteri Gaudiosi Dolorosi E gloriosi Fermate l'immagine E poi lo copiate Sielo dato Gesù Cristo Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Amen Alla prossima volta